Buongiorno, siamo a IT, a Vicenza 2018, nel nostro stand, nel nostro salottino deputato alle interviste. Abbiamo con noi Marco Manfredi, che è il responsabile ricerca e sviluppo della Baschiere Pellagri, quindi la storica ditta felsinea produttrice di cartucce, di polveri e anche di componentistica per la ricarica fortemente apprezzata dai cacciatori e dai ricaricatori. Allora Marco, che cosa ci presenti, qualche novità sulla gamma caccia del 2018? Perché mi incuriosisce, vedo già, hai portato una scatolina e delle cartucce che richiamano un po' un gusto della caccia di qualche anno fa, del passato, e mi sembra un'operazione di recupero delle tradizioni. È un'operazione che già abbiamo fatto lo scorso anno con un altro prodotto storico, che era l'MB Tigre, una cartuccia nata negli anni 40. Una ventina di anni dopo nasce un'altra cartuccia storica, che è l'F2 Super Flash, caricata con la polvere F2. E quindi abbiamo anche quest'anno recuperato, diciamo così, questo prodotto storico, che è una cartuccia che proponiamo sia in calibro 12, quindi ha un bossolo di cartone storico? Sono bossoli di cartone, laccati, serigrafati, chiusura stellare, borraggio in plastica. Una gamma abbastanza completa. Destinazione? Quale serbatico? Destinazione, pallini che vanno dal 7 al 3, quindi da lepre, fagiano. Diciamo dalla nobile alpina alla nobile stanziale. Tutto qua.